Si chiude il Siprario su una delle vicende di cronaca più controversie e sanguinose del nord-est, il caso Ludwig. Wolfgang Abel, che insieme a Marco Furlan era stato condannato per la catena di delitti rivendicati dalla sigla neonazista tra l'82 e l'84, con 28 morti e 39 feriti tra sacerdoti, omosessuali e persone che frequentavano locali erotici e discoteche, ha scontato la sua pena e ora, per decisione del giudice di sorveglianza, non sarà più nemmeno sottoposto all'obbligo di firma, ultima misura che rimaneva attiva dopo che aveva scontato 23 anni di carcere su una condanna di 27 anni complessivi. Abel e Furlan vennero arrestati mentre appiccavano il fuoco alla discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove si trovavano circa 400 ragazzi. Inizialmente furono mandati in domicilio 4 a Mestrino e a Casale di Scodosia, dopo la condanna Furlan ha scontato 13 anni di carcere ed è già libero, Abel invece per la sua presunta pericolosità sociale era stato sottoposto a obbligo di firma. Oggi ha 57 anni e abita in una casa a Darbizzano, sulle colline veronesi. Entrambi non hanno mai confessato nessun omicidio e non si sono più rivisti.